Qual è il ruolo dell'Italia nell'astronomia e qual è l'importanza delle reti e del calcolo nella ricerca astronomica oggi? Lo chiediamo a Riccardo Smareglia, primo ricercatore dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Italia è uno dei paesi più coinvolti dal punto di vista della radioastronomia al mondo. L'Italia ha nel suo territorio tre grossi radiotelescopi, che sono quelli di Medicina vicino a Bologna, del Sardegna Radio Telescope vicino a Cagliari e di Noto vicino a Catania. E già questi radiotelescopi fanno parte di un grosso network internazionale che permette di utilizzare i radiotelescopi sparsi soprattutto in Europa, se no e poche volte anche in altri continenti. Oltre a questo, quindi oltre allo strumento scientifico, l'Italia si propone anche come uno dei maggiori utilizzatori di questi dati e quindi la possibilità di creare proprio in Italia un Regional Center per collegare e connettere e quindi archiviare i dati di questi radiotelescopi. Per quanto parliamo di radiotelescopi? Se vogliamo parlare invece anche di scopi ottici, anche in questo caso ormai la quantità di dati acquisita è talmente grande, anche là si parla di petabyte e proprio per questo l'Italia vuole utilizzare, vuole avere la possibilità di avere tutti questi dati il prima possibile, particolarmente sul territorio, in modo da poterli utilizzare con gli strumenti adeguati e sviluppati dai propri ricercatori. Le reti veloci sono essenziali per la qualità della ricerca scientifica di punta. Potremmo tornare a 30 anni fa in cui si spedivano i dischi, però ovviamente vuol dire che informazioni tipo i transienti, anche cose tipo lo space weather, quindi problematiche legate allo sviluppo di tecnologie satellitari non si potrebbero fare e quindi la rete è essenziale per tutte le attività legate all'astronomia moderna. Dal punto di vista delle reti noi forniamo ad esempio al GAR i nostri requirements, quindi le nostre richieste e gli chiediamo praticamente di darci la maggior banda possibile per spostare e per correlare i nostri dati. Dal punto di vista del calcolo e dal punto di vista degli archivi, ovviamente archiviare e organizzare, studiare petabyte di dati, ovviamente questo porta a uno sviluppo informatico locale e nazionale che è estremamente importante, soprattutto sia in collaborazione ma anche in concorrenza con le altre nazioni perché ovviamente è tutta una gara nel riuscire praticamente a dare l'informazione scientifica più importante e prima degli altri, anche in questo campo. Si pensi, in un certo di calcolo, a una vita media particolarmente di tre anni dopodiché l'informatica, con il computing, l'archiviazione, i dati e il storage va aggiornato, va cambiato. Mentre un telescopio tipo il radio telescope può durare per qualche decina d'anni con tutta la manutenzione, già i suoi sensori particolarmente vanno aggiornati molto velocemente perché la tecnologia è estremamente veloce anche in questo campo, ancora di più dal punto di vista dell'informatica. L'INAF è collegata in media sui 10 gigabit al secondo tra le varie sedi localmente. La nostra richiesta a breve termine per poter lavorare con SCA sarà sui 100, però ovviamente purtroppo c'è la fantasia dei sviluppatori di strumenti che sicuramente hanno già incominciato che sotto il terabit al secondo incominciamo a avere difficoltà ad utilizzare in modo efficiente i nuovi strumenti. Noi questa informazione ovviamente la passiamo al GAR, perché noi non sviluppiamo le reti ma ci progettiamo pesantemente alle loro reti e cerchiamo ovviamente di avere le risposte adeguate nei tempi necessari alla ricerca. Allora, se parliamo di radiotelescopi, lo SCA Organization è un'organizzazione internazionale appena fondata, International Development Organization, IGO, ed è istrutturata con un quartier generale appresso in Inghilterra, vicino a Manchester, Jordan Bank e ha i telescopi distribuiti essenzialmente tra l'Africa, o meglio Sudafrica, e certi paesi vicino a Sudafrica, e l'Australia. In mezzo ci stanno le reti per la trasmissione dei dati. Tasmissione dei dati che una volta che questi sono arrivati dai radiotelescopi al centro dati locale principale, perché là si parla di velocità ancora maggiore, soprattutto di dati ancora maggiore, devono essere distribuiti e spostati in Europa, quindi da Sudafrica devono arrivare praticamente verso l'Europa, dall'Australia devono arrivare verso l'Europa nei tempi, come ho detto, utili a una ricerca scientifica adeguata. Per quanto l'astronomia sembra un qualcosa di molto lontano, è un qualcosa particolarmente estremamente vicino allo sviluppo scientifico e allo sviluppo di ogni giorno. A me piace ricordare che l'astronomia è vera, particolarmente che parliamo di esopianeti, gli istanti anni luci o della creazione dell'universo, però l'astronomia ha permesso lo sviluppo del Wi-Fi che utilizziamo ogni giorno. Per cui è una scienza che è essenziale per lo sviluppo della società. Grazie.